Si è mafo, si vede, si vede, si vede, si sta. Bellissimo, bellissimo. No, è carino, il fatto del castello non è male, sta. È giardino anche, non... L'unica certezza che volevo, proprio perché ci tiene, quella così fissata, il fantasma, cioè è sicuro del fatto che sta il fantasma. Ma gliel'ho detto, glielo... Che c'è là, Fili, che gli deve fare il regalo. Allora, questo è uno dei pochi castelli in cui c'è il fantasma che appare a mezzanotte preciso, proprio preciso. Preciso. Non vorrei che magari fossi così dicono, giusto per dire, però alla fine... Guardi, guardi, visto che la vedo un po' diffidente, rimane lei qui senza problemi, fino a mezzanotte, rimane così lo guarda proprio da vicino. Anche oggi c'è... Sì, sì, ho detto ogni giorno. Rimaniamo a questo punto, rimaniamo tutti e due così, non lo vediamo, e abbiamo la conferma di quello che... No, io c'ho da fare, c'ho da fare, io sono molto indaffarato, capisce? Rimane lei, non si preoccupi, io mi fido, ho visto che lei è una brava persona. Non è che posso rimanere da solo, che significa? No, 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 ma no, rimanga, rimanga, anzi, faccio una cosa, porti le chiavi domani, domani mattina, lei rimane qui, non si preoccupi, io sono in agenzia per me fa sapere di vederci. Sì, niente di boi, c'è me, sono andato. Sì, niente di boi, c'è역. Non è un momento giamo di sì, ma... Sì, niente di boi... No, no, no. Dov'è? Sono cento anni che lo sto cercando. Dov'è? Dov'è? Lo sto cercando alla cento! Dov'è? Dov'è? Cento anni che lo sto cercando! Dov'è? 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 Lo sto cercando da cento anni! Dov'è? 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 Eee? Che cosa cosa ho cercato da cento anni! Che cosa? Il gabinetto! Dov'è? C'è l'ho anche una di tutti... Il gabinetto? Eh? Fra sinistra! Guarda! E diitele queste cose! Vi spaventare. Dov personnage? Non so se sta la carta.